Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel solito usuale disordine della mia libreria. Allora, cari signori, cari signori, cari signori, in questo video torno a parlare per l'ennesima volta di un aereo italiano in particolare, ovvero sia questo, il piaggio P108B. Ne abbiamo parlato più volte, ne abbiamo parlato in occasione della recensione di questa monografia curata da Giancarlo Garello, questo è il tre viste del piaggio P108 con il simbolo della, con la firma del comandante Bruno Mussolini, simbolo della 274esima squadriglia Bombardamento Grande Raggio, l'unico reparto della regia aeronautica che ebbe in dotazione questo quadrimotore da bombardamento. La debolezza volante italiana, un aereo problematico, un aereo pieno di difetti, un aereo che la nostra industria e la nostra regia aeronautica non furono mai in grado di portare a maturità e ad affidabilità. Allora, perché torniamo a parlare del piaggio P108? Perché, insomma, mi è capitato giusto oggi di ricevere neanche sulla mia pagina Facebook, ma neanche sul mio profilo Facebook, ma addirittura sulla mia pagina da DJ, un virulento, verboso e violento post da parte ovviamente di una testa di cazzo anonimo che, come dire, ha sbrodolato contumeglie nei miei confronti, accusandomi di voler nascondere la verità su quanto è accaduto il 7 agosto 1941 al bombardiere Piaggio P108, matricola militare 22003, comandato dal capitano pilota Bruno Mussolini. Insomma, parliamo della morte del figlio terzogenito del Duce. Il personaggio che mi ha caricato di improperi sulla mia pagina da DJ, cioè ragazzi, c'è una azione vuole di stomaco veramente. Questo personaggione mi ha detto che io mi ha accusato di voler nascondere la verità sulla morte del capitano pilota Bruno Mussolini, vilmente assassinato da un complotto di sabotatori comunisti. Allora, 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 se in Italia c'è qualche imbecille che crede a una simile stronzata può tranquillamente prendere e andarsene dove dico io e come dico io può andare dove dico io. Vabbè, cercherò di essere il meno volgare possibile perché qua c'è di mezzo gente che ci ha lasciato le penne e ai morti. Diciamo, va portato anche il dovuto rispetto. Allora, ci sono due eventi che nella storia della regia aeronautica sono stati studiati, sviscerati, sezionati e passati al pettine fitto. Il primo è l'abbattimento, ovviamente, di Italo Balbo. Ok? Si sa tutto e anche di più sull'abbattimento di Italo Balbo. Ok? Tutto si sa sull'abbattimento di Italo Balbo. Tutto. Soprattutto si sa perfettamente che non fu un complotto di Mussolini per eliminare Balbo, ma che fu un disgraziato caso di fuoco, amico. Stop! E poi, l'altro evento studiatissimo è, giusto appunto, la morte del figlio terzogenito del duce in un tragico e disgraziato incidente in atterraggio. In un atterraggio di emergenza. E allora, perché non ci fu sabotaggio? Perché non ci fu complotto? Perché non fu un attentato ai danni della vita del figlio del duce? Semplicissimo. Uno. Il figlio di Benito Mussolini va in guerra. Ok? Ma, 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 ma ovviamente, essendo figlio del capo del governo, essendo figlio del duce, era garantita una sorveglianza strettissima da parte dei servizi segreti italiani, diciamo così. Insomma, il figlio del duce va in guerra. Vuoi che il suo aeroplano non sia tenuto sotto controllo? Vuoi che la sua squadriglia non sia tenuta sotto controllo? Vuoi che gli uomini che volano con lui non fossero di totale, assoluta e cieca fiducia nei confronti del figlio del duce? Insomma, era Bruno Mussolini, era un capitano pilota, era un bravo pilota, un buon pilota. Prima della guerra era diventato molto popolare per le sue imprese sportive. Più o meno come può esserlo al giorno d'oggi, invitò un Valentino Rossi, per dire. E le sue imprese sportive gli garantirono anche una grande fama. Allo scoppio della guerra prestò servizio nella regia aeronautica e nel 1941 entrò a far parte della 274esima squadriglia bombardamento a grande raggio che aveva in dotazione i modernissimi Piaggio P-108. La storia dell'attentato che costò la vita a Bruno Mussolini sta in piedi soltanto nella testa dei complottisti, dei fanatici e dei ritardanti. Allora, sappiamo bene, ne ho parlato più di una volta e ne hanno parlato più di una volta fior di esperti da Daniele Lembo a Giancarlo Garello, da Igino Maria Coggi a Enzo Maio, passando per il professor Gregorio Aleggi e per Nico Sgarlato. Tutti concordano su una cosa, che l'incidente di Bruno Mussolini fu solo un disgraziato incidente dovuto all'immaturità della macchina, all'immaturità del velivolo dovuto ai problemi di affidabilità del Piaggio P-108. Stop! Un disgraziatissimo incidente di volo. Un incidente in decollo causato dall'inaffidabilità intrinseca di una macchina che per tutta la sua vita operativa non fu mai a punto. Una macchina che, insomma, la vita operativa del Piaggio P-108 fu né più né meno una lunga, costosa e snervante campagna di collaudi operativi per un aereo che non si riuscì mai a mettere a punto e che costò la vita anche a Bruno Mussolini. Il 7 agosto 1941, la dinamica di quello che avvenne il 7 agosto 1941, ripeto, è nota da decenni, perché la dinamica è ben nota. Giancarlo Garello ci spiega che il 7 agosto avvenne la prima tragedia del Piaggio P-108. Durante un volo di allenamento l'aereo matricola militare 22-003 si schiantava al suolo in atterraggio, causando la morte del capitano Mussolini, del tenente Vitalini Sacconi e del maresciallo motorista Trezzini. Si salvarono dal disastro cinque componenti dell'equipaggio, tra cui il secondo pilota, Musti De Gennaro. La dinamica dell'incidente è sintetizzata da Garello con le seguenti parole. Allora, secondo la documentazione esistente e le testimonianze di chi allora seguì l'inchiesta, l'aereo si trovava già in configurazione d'atterraggio, con i flap estesi, ma il carrello rientrato, quando a causa della rottura di un tubo si verificava una perdita di pressione nell'impianto idraulico. Alla caduta di pressione seguiva automaticamente il rientro dei flap. I piloti, resisi conto dell'avaria, comandavano l'estensione parziale del carrello onde sfruttare la pressione parziale ancora presente nell'impianto, ma, essendo troppo intenti ad osservare il manometro indicatore della pressione idraulica collocato sulla piantana, non si accorgevano che il grosso aereo entrava in stallo di bassa velocità. Quando il pilota ai comandi, cioè Bruno Mussolini, resosi conto dell'assetto pericoloso dava motore, la manovra troppo brusca causava l'ingolfamento delle unità motrici che non rispondevano sollecitamente. Ad un secondo tentativo, i motori piantavano contemporaneamente e l'aereo, ormai troppo vicino al suolo, toccava il terreno con l'estremità di un'ala distruggendosi. Il pilota che commise l'errore di azionare troppo bruscamente la manetta del gas, eccolo qui, era lui, Bruno Mussolini, figlio terzogenito del Duce. Il figlio, forse il figlio prediletto, abile pilota innamorato del volo, ufficiale, molto benvoluto dai suoi uomini. Insomma, ecco qua, questo, nelle foto della monograferia di Garello, è quello che rimane del P-108-22-003 pilotato da Bruno Mussolini. Ecco qua cosa ne rimaneva. Insomma, un incidente di volo come tanti, come tanti ce ne furono, contrariamente a quello che ha cominciato a dire certa gente, non c'è alcun complotto dietro la morte di Bruno Mussolini. Ripeto, gli uomini che volavano con Mussolini erano controllatissimi. gli aerei, cioè i mezzi su cui volava Mussolini erano iper sorvegliati, cioè insomma, c'era pur sempre di mezzo il figlio del Duce. Insomma, che vi devo dire? C'era un bel dire, Mussolini, Bruno Mussolini, è un pilota come gli altri. Insomma, era un pilota che non si tirava sicuramente indietro, ma era pur sempre il figlio del capo del governo. e in tutte, ripeto, in tutte, tutte le volte che il figlio di un personaggio così importante, a parte Jakov Stalin, cioè tutte le volte che un figlio di un capo del governo combatte, va in guerra, eccetera, eccetera, diciamo che un minimo di riguardo c'è, un minimo di attenzione c'è, delle precauzioni vengono comunque prese, va bene? e l'ovra era lì apposta. Insomma, che cosa accade? Cioè, allora, Daniele Lembo, in Alitricolori, del dicembre 2001, riporta le parole del secondo pilota di Bruno Mussolini, il tenente Vitalini Sacconi. Allora, in decollo, diceva questo qua, in decollo, il 7 agosto 1941, Vitalini Sacconi riferisce a, riferisce a, in un articolo scritto su Storia Verità, Europa Libreria Editrice, del 2001, sempre, e in un colloquio, in un'intervista con la giornalista, con la ricercatrice Francesca Lazzeri, Vitalini Sacconi scrive che il volo effettivamente durò pochissimo. Appena presa quota, Bruno diede il consueto ordine a Trezzini di far rientrare le ruote, ma il dispositivo non rispondeva. Bruno quindi fece virare l'aereo sopra la stazione ferroviaria di Pisa e si stava apprestando per l'atterraggio quando Trezzini disse che le ruote stavano rientrando. Era ormai troppo tardi per riprendere quota. L'impatto col suolo era inevitabile. Bruno fece di tutto per salvare l'aereo e la vita dell'equipaggio. Fece impattare l'aereo dalla sua parte, evitando così che i 16 serbatoi di benzina prendessero fuoco. L'urto fu violentissimo, tanto che il corpo di Bruno fu ritrovato a 100 metri dal P-108. Allora, praticamente che cosa dice Vitalini Sacconi? che ci furono dei problemi al decollo. Il carrello non rientrava. Poi l'impianto idraulico fece rientrare il carrello ma non c'era più tempo per tornare indietro. Quindi che cosa succede? Succede che un altro dei passeggeri, il tenente Musti De Gennaro, dicevo, scrisse alla commissione tecnica riunita immediatamente dopo l'incidente per accertarne la dinamica. Allora, la dichiarazione ufficiale di Musti De Gennaro alla commissione di inchiesta fu la seguente. Cioè, prestate bene orecchio. Allora, il maresciallo Trezzini che era un esperto motorista che seguiva da anni Bruno Mussolini disse allora, il maresciallo Trezzini che si trovava immediatamente dietro e tra i due piloti portava a conoscenza del comandante Bruno che uno strumento posto sul lato destro della piantana centrale aveva l'indice che oscillava irregolarmente e io stesso vidi l'indice oscillare e vidi pure che il comandante Bruno decideva di interrompere il volo e di portarsi all'atterraggio. Poiché si trovava in buona posizione rispetto alla normale direttrice dell'atterraggio stesso dirigeva verso il campo con un'ampia curva a sinistra riducendo i motori e disponendo il velivolo con una traiettoria sui 4-5 metri al secondo a scendere. Durante la discesa il motorista maresciallo Trezzini abbassava l'aletta di curvatura puntando la relativa leva di comando in corrispondenza della seconda lettera A di aletta. A un certo punto Bruno Mussolini si accorgeva di essere corto e decideva di riattaccare i motori ma questi non rispondevano riportava le leve in avanti e ripeteva la manovra con uguale risultato negativo pur essendo aiutato in ciò sempre dal motorista maresciallo Trezzini. Anch'io non ho sentito la ripresa di nessuno dei quattro motori. Immediatamente dopo il secondo tentativo di apertura della manetta il comandante Bruno scuoteva ripetutamente ed ampiamente avanti e indietro il comando del timone di profondità quasi per farmi constatare che il velivolo non rispondeva più al comando stesso. In quel momento eravamo ad una quota di 70 metri di circa 70-80 metri un po' sbandati sulla destra e l'aereo incominciava a girare a destra come se fosse in vite piatta. Voltandomi a destra percepì perfettamente il momento in cui l'estremità dell'ala destra urtò contro la casa nonché il successivo strisciamento sulla terra. Musti aggiunse anche che non ho avvertito alcuna ripresa dei motori nemmeno negli ultimi istanti di volo viceversa ho sentito più volte la voce concitata del comandante Bruno e del maresciallo motorista Trezzini in pratica che cose accade un guasto all'impianto idraulico l'impossibilità di riprendere subito quota dopo una manovra di atterraggio troppo frettolosa perché perché i motori Piaggio i radiali Piaggio i propulsori del Piaggio P108 digerivano dannatamente male le brusche manovre della manetta del gas ovvero sia se tu acceleravi e deceleravi troppo bruscamente la piantata dei motori era garantita perché i carburatori il carburatore dei radiali Piaggio si ingolfava e non c'era niente da fare la morte di Bruno Mussolini fu solo soltanto e solamente un tragico incidente nessun complotto nessun sabotaggio nessun e ripeto nessun attentato alla vita del figlio del Duce un tragico tragico incidente di volo come tanti ne accaddero durante la seconda guerra mondiale niente di più niente di meno fu insomma una insomma come dire fu una tragedia vero il figlio terzo genito del Duce fece l'impossibile per salvare l'equipaggio e l'aereo ma non ci riuscì non ci riuscì perché ahimè non ebbe il tempo non poteva far niente la piantata dei motori dovuta all'apertura del comando del gas era un incidente che poteva succedere e capitò a lui fu un incidente che la morte di Bruno Mussolini segnò profondamente il padre Bottai disse di sperare che quell'incidente che quella tragedia non isolasse ancora di più Mussolini cioè Mussolini negli ultimi anni della sua cioè insomma negli ultimi anni di guerra si era volutamente isolato e rinchiuso in una solitudine cupa e triste e la morte di Bruno Mussolini che era il suo figlio prediletto se vogliava un giovane baldo bello e coraggioso che era un grande pilota lo ferì profondamente tra l'altro Mussolini scrisse anche un bellissimo libro dedicato al figlio intitolato Parlo con Bruno io vi consiglierei di leggerlo quel libro perché ci racconta molto della personalità del duce un duce che anche nel dolore per la perdita di un figlio non perde il gusto per la recita e questo diciamo che la dice molto lunga sul personaggio e sul carattere dell'uomo Mussolini tutto qua insomma ripeto la morte di quest'uomo la morte del capitano pilota Bruno Mussolini non fu nient'altro che un tragico incidente di voi non fu nient'altro che una sventurata che uno sventurato incidente non ci fu un attentato non ci fu un complotto insomma pretendere di sabotare ah ma lo avranno sabotato in fabbrica no non l'hanno sabotato in fabbrica non l'hanno sabotato in fabbrica semplicemente perché il piaggio P109 per la nostra industria era un passo troppo più lungo della gamma e l'ho detto più di una volta ma questo concetto nella testa dei complottardi i complottisti incrociati con giovanardi nella testa dei complottardi queste cose non entrano per loro conta soltanto la sensazione hanno assassinato il figlio del duce per colpire il padre la quinta colonna i comunisti i bolscevichi i sabotatori eccetera 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 che palle mamma mia questo voler cercare a tutti i costi il complotto anche dietro un fatto così noto così sviscerato e così solare nella sua accidentalità vuol dire proprio essere ritardati lasciatevelo dire comunque sia signori io spero che questo video vi sia piaciuto come sempre ci sono i commenti per le vostre considerazioni le vostre aggiunte le vostre correzioni ci sono i commenti per sapere che cosa ne pensate fatemi sapere che cosa ne pensate come sempre e come sempre di nuovo arrivederci al mio prossimo video ciao